La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore ritenuto contiguo a un noto clan facente capo a Cosa Nostra di Gela. La sua pericolosità sociale, presupposto dell'applicazione di una misura di prevenzione, era stata evidenziata nel corso dell'attività investigativa dell'operazione Extra Fines Druso, che nell'ottobre del 2017 ha portato al suo arresto per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gli accertamenti effettuati avrebbero messo in evidenza un anomalo incremento di ricchezza dell'imprenditore stesso rispetto alla dichiarata posizione reddittuale risultata sproporzionata in rapporto al consistente patrimonio finanziario ed immobiliare da lui accumulato negli ultimi decenni. La confisca ha riguardato quattro immobili tra fabbricati e terreni situati in Basilicata e Molise, due società di capitale, tre impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica a Campobasso e a Potenza, una partecipazione societaria, due auto e diversi rapporti bancari per un valore stimato pari a circa 750 mila euro. Nei confronti del soggetto, inoltre, è stata disposta la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni.